Musica Sabato 9 settembre, bentrovati all'appuntamento con l'edicola di TRMH24, lo spazio dedicato alla lettura dei quotidiani. Iniziamo dalle prime pagine nazionali di Repubblica, Corriere della Sera e Gazzetta del Mezzogiorno. Corriere della Sera in primo piano, tensione tra Europa e Italia, l'Unione Europea difende Gentiloni, scelte condivise e Dombronski, l'economia frena. Al via il G20 in India, diviso sull'Ucraina, c'è Biden, assenti Xi e Putin, Conte, menzogne sul superbonus. Leggiamo anche il commento, lei lui l'altro e la manovra, questo per quanto riguarda invece la politica interna, Meloni, Salvini, Giorgetti, queste diverse posizioni sulla manovra. Fratelli d'Italia rimane sopra il 30%, governo con senso in calo il sondaggio di Pagnoncelli e poi il tempo delle donne, quelle libertà da rafforzare così potranno diventare diritti. In fotonotizia il calcio, vediamo in primo piano c'è il nuovo cittadina nazionale, Spalletti, Genio e Pignoleria, Spalletti lancia la sua nazionale. Stasera sfida la Macedonia per l'europeo, Mancini, debutto amaro, strage di brandizzo, io su quei binari salvo per il martello. La dichiarazione del capo squadra, attivista Filoputin, lavorerà in Senato il caso e Russa ha vinto il concorso. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, vediamo il titolo principale riguarda il Covid, l'allarme che torna per il virus ed è autunno Covid. i timori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una settimana nel nostro paese più 44% di contagi e quasi 100 morti, nessun obbligo di isolamento, ora una circolare ripristina i test in ospedale ai sintomatici, l'infettivologo rezza, anziani e fragili vanno ancora protetti, manovra, mancano fondi per la sanità pronti a tassare il gioco online. Il commento, il nemico è di nuovo tra noi e di spalla invece G20, Biden e Modi, isolano Xi e Sukhiev e Lite, Bruxelles inquieta per l'attacco a Gentiloni, quindi altre notizie, leggiamo carceri minorili sovraffollate, i dubbi sul decreto Caivano, Roma scippatore massacrato dal branco, l'analisi serve una risposta di sinistra, femminicidi, altro tema, piante dosi, archivi a Giambruno, donne al sicuro anche in minigonna, e poi Vannacci sfida a Crosetto, non taccio, l'autore appunto del libro Il mondo al contrario, che è appunto particolare generale Vannacci, particolarmente contestato, e poi come dire esautorato dal ministro. Quante collisioni tra eri e uccelli nei cieli italiani, questo è il rapporto ENA, che poi il Senato assume Irina Laputiniana, Filo Wagner. Passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Bari di nuovo fiera, l'apertura del quotidiano, della pagina nazionale, appunto perché oggi si apre, viene inaugurata dal vicepremier Salvini, la 86esima edizione, Fitto a Otranto rilancia gli obiettivi del decreto sud, le analisi, la campionaria, ora ritrovi la sua vocazione, destra, finistra, la vera distanza. Bari, notte irresistibile, il ritorno a casa di Zalone, in migliaia per la prima serata nel vecchio stadio, quindi foggia, l'allarme dell'antimafia, la zona grigia spaventa gli onesti, le audizioni in prefettura, Mattarella indignato, il femminicidio intollerabile e barbarie, e poi sul Covid, nuovo balzo con questa nuova variante Eris più 44%, scandalo protezione civile, l'erario verso il processo bis Italia, sabato da Macedonia tra volley a Bari e a Palaflorio e il calcio con l'esordio, abbiamo visto gli spalletti con la nazionale a punto di calcio. Passiamo ora a Corriere del Mezzogiorno e Repubblica Bari. Corriere del Mezzogiorno, rivolta anti Porsche, atto secondo, dopo gli espropriati insorgono gli albergatori, ci sottrarranno migliaia di clienti nel progetto della costruzione di 30 edifici, una mensa per gli ospiti, caos in comune a Porto Cesario. E quindi continuiamo a leggere il giornale all'interno. Vediamo Fiera, l'arrivo di Salvini, scalda il clima, attesa per le parole sul Mezzogiorno. Stamattina la cerimonia di inaugurazione davanti ai cancelli, la protesta dei militanti della CGL, i buoni rapporti del vicepremier con Emiliano, per De Caro, ultimo discorso da sindaco di Bari. E quindi si parla anche dell'investimento a Nardò Working Cube. Così la Porsche lancia gli edifici per piloti e ospiti, le strutture simili a Villette, nel progetto per ampliare la pista. C'è anche una mensa agli albergatori a rischio, l'economia locale. Passiamo ora a Repubblica Bari. Vediamo il titolo dedicato invece alla lunga marcia verso le elezioni di amministrative 2024 proprio a Bari. Nel PD arriverà lo stop, deputati e consiglieri, la segretaria nazionale Elice Line dopo la festa dell'unità a Racale torna in Puglia, invitata da sinistra italiana Barletta, intanto prepara le linee guida per le candidature a sindaco. all'interno del giornale, tra le dune tesori di Puglia, ecco dove stiamo rischiando. E poi, questo almeno per quanto riguarda il reportage, abbiamo visto appunto la notizia verso le elezioni in Puglia, continuiamo a sfogliare e vediamo. Via Libera al Politecnico, la caserma Magrone diventerà un campus, sarà una struttura moderna con aule, laboratori e alloggi per gli studenti e con un parco il costo è di 90 milioni, mentre leggiamo anche la notizia dell'arrivo della Geo Barents nel porto di Bari con 31 migranti a bordo. Passiamo alle edizioni locali della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi Gazzetta di Bari, l'edizione della Basilicata e poi tutte le altre province pugliesi. E vediamo appunto Gazzetta di Bari in primo piano, Fiera, Checco Zalone, Italvolle, fine settimana di show ed eventi, ovviamente questa appunto l'inaugurazione della Fiera. Poi lo show di Checco Zalone all'Arena della Vittoria, c'è la replica dello show di Checco Zalone, mentre a Pallaflori appunto gioca la Nazione Azzurra di Pallavolo. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata, la CGL, Sanità e Automotive sono diventati mali cronici e dalla giunta regionale pioggia di milioni per i nidi e per le chiese. Melfi, 2 milioni e il campanile è finalmente salvo, questa edilizia religiosa e quindi potenza, trasporto pubblico, rigettato il ricorso di trotte, il Consiglio di Stato chiude la vicenda, Matera caccia di panificatori e si pensa a una scuola d'arte, Martino è urgente, il ricambio generazionale. Cambiamo edizione, ci spostiamo ora nella BAT, Andrea, rotatoria senza accesso a Montegrosso, scatta la protesta e quindi cava fumante, ora l'intervento, Trani parla all'assessore all'ambiente, Amoruso, completato all'istruttore della polizia locale, il sito ha ripreso i manali di fumi nell'atmosfera da alcune settimane, diffondendo odori nauseabondi e innescando le nuove proteste. Ci spostiamo ancora, stavolta andiamo in Capitanata, vediamo Foggia una priorità, il nostro impegno, l'antimafia tiene alto il livello di guardia e passiamo poi alla Gazzetta del Salento, scuole dimensionate con roventi polemiche, ieri a Lecce incontro la provincia per la programmazione ci spostiamo ancora, passiamo alla Gazzetta di Taranto e leggiamo Ristrutturazione dello stadio, ecco le cifre, i tempi, gli interventi, il Comune attende il via libera della Procura per il sopralluogo in Curva Sud. Passiamo ora all'Edicola del Sud e al Quotidiano di Bari, vediamo Edicola del Sud, Salvini in fiera a Bari e Cancelli, c'è la protesta, la campionaria, il Vicepremiere inaugurerà oggi l'86esima edizione, sigle e associazioni chiedono il confronto, abbiamo parlato dei casi Covid in aumento e anche del difitto che è stato a Lecce per il Festival dei giornalisti del Mediterraneo e poi l'allarme sicurezza in Capitanata, la commissione antimafia che è stata ieri a Foggia e la mafia degli affari, 100 interdittive in 7 anni. Stasera si bissa, grande festa per la prima di Zalone e quindi leggiamo anche in taglio basso Carbonara, Ceglie e Loseto, c'è il Sì della Giunta, la raccolta porta a porta, da Tregua a Montegrosso interrotti i lavori per chiudere lo svincolo e poi ok di Bardi alla ZES unica ma non piace ai sindacati, è l'ennesimo scippo quotidiano di Bari, amministrative baresi avanti ad agio nel centro-destra e nel centro-sinistra, oggi la Premier Meloni ha stranamente inviato il suo viceleghista Salvini al posto del ministro Urso per il taglio del nastro alla Fiera del Levante. Ci spostiamo ora sul Sole 24 ore per notizie economico e finanziarie, vediamo l'apertura T-Bond USA ribasso da record e vediamo quello che sta succedendo sui mercati, il prezzo del decennale statunitense in calo da tre anni consecutivi. Il trend è connesso alle strette monetarie e all'esplosione del debito, tiene l'economia degli Stati Uniti ma il rapporto tra debito e pilla è ben oltre i livelli pre-Covid. Con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi, grazie per averci seguito, restate con noi per tutti gli aggiornamenti sulle notizie di Puglia e Basilicata.